Benissimo, allora diamo ufficialmente il via a questo webinar di insegnalo.it dedicato a Joomla. Grazie per la partecipazione, grazie per aver aderito al nostro invito e per essere qua presenti. Io sono Fabio Ballor, fondatore di insegnalo.it, mi occupo, sono fondamentalmente un psicologo formatore, però da diversi anni dedito alle tecnologie informatiche, sia in ambito e-learning, quindi l'utilizzo delle tecnologie informatiche per la didattica online, sia anche tutta quella che è l'infrastruttura che consente di far questo. Il progetto che porta avanti, che conoscete, è quello di insegnalo.it che appunto mette insieme gli aspetti di e-learning con gli aspetti di contenuto. Per far questo utilizziamo sia Joomla che Moodle, che è un LMS, quindi una piattaforma per fare i learning, mentre Joomla è un CMS, quindi una piattaforma per sviluppare siti, per gestire contenuti. Facciamo questo, dicevo, attraverso questi sistemi open source con l'integrazione di vari componenti, componenti per Joomla che ci consentono di fare determinate cose. Queste cose chiaramente le trovate all'interno del sito insegnalo.it ed è il motivo per cui abbiamo in qualche modo pensato potesse essere interessante proporre un corso che consente a tutti di sviluppare quella che è la base che abbiamo anche sviluppato noi. Ora vado sull'altra slide. Per far questo utilizziamo noi una piattaforma anche di webinar per lavorare online. In questo momento siete sulla nostra piattaforma di GoToWebinar, che è una piattaforma che ci consente la condivisione, in questo momento mia come relatore, come organizzatore, di audio e video e condivisione dello schermo. Voi potete fare delle domande, trovate all'interno del box di GoToWebinar l'area per fare le domande. Purtroppo questo sistema non prevede una chat pubblica, una mancanza del sistema, però possiamo interagire in questo modo. Quindi vi chiederei di scrivermi, io leggo le domande e interagisco con voi in questo modo, in maniera tale da poter, anche da parte mia, non essere da solo e avere questo scambio. Perfetto. Quindi vi dicevo, torniamo alle slide. Joomla per tutti è il progetto che abbiamo sviluppato. Joomla per tutti prevede due grosse aree, uno che è il Joomla base, che è un corso gratuito disponibile online, realizzato da uno dei maggiori autori su Joomla, che è Roberto Chimenti, che ha scritto diversi libri, anzi direi che per Joomla in italiano è il maggior autore. Ha realizzato anche il corso di Joomla base, che attraverso una partnership con Ergonet siamo riusciti anche a renderlo disponibile su insegnalo.it. Questo lo trovate sempre su insegnalo.it. Il link è quello che c'è in basso, teach4has slash Joomla gratis con la J e la G di gratis maiuscoli. Bene, però questo non ci bastava, abbiamo anche pensato di portare avanti un progetto legato ad un utilizzo più avanzato di Joomla, soprattutto rispetto a quello che è l'esperienza di insegnalo.it. E questo l'abbiamo realizzato attraverso tre diversi percorsi. Sono questi tre diversi percorsi che sono il social network con Joomla, il learning con Joomla e adesso il commerce con Joomla. Il social network con Joomla ha trattato tutti i temi relativi all'utilizzo di ambienti sociali, sia integrati dentro Joomla che in collegamento con quelli famosi esterni, e in particolare utilizzando componenti che sono Joomsocial e Community Builder. Community Builder è un componente gratuito, mentre Joomsocial è un componente a pagamento per creare dei social network con Joomla. Mentre come componente di integrazione tra Facebook, LinkedIn, Twitter e Google+, utilizziamo e abbiamo proposto in quel corso JFBConnect o JLinkConnect, poi sono parti di uno stesso componente. Questo corso live è già stato realizzato, trovate online tutte le registrazioni e un supporto anche in piattaforma. Poi abbiamo fatto i learning con Joomla, i learning con Joomla invece tratta degli aspetti di collegamento tra la piattaforma Joomla, quindi CMS, e Moodle come LMS. Questo è stato realizzato attraverso un componente gratuito che si chiama Joomla, è un componente gratuito perché è ancora in versione non di rilasso ufficiale, però in versione già ampiamente funzionante, su insegnore.it ne avete un esempio concreto, ed è un componente gratuito che fa da bridge tra Moodle e Joomla. ed è un componente che ci ha permesso di fare molte delle cose che facciamo su insegnore.it. Adesso invece trattiamo la terza parte, il terzo aspetto dell'integrazione tra i due mondi, i mondi sono quelli dell'e-commerce e dell'e-learning, dei contenuti, quindi sono più aspetti, che sono quelli relativi all'e-commerce. Il dettaglio di questo è all'interno del sito Joomla per tutti con la X maiusca, teach4has.joomla per tutti, ma lo conoscete perché è da lì che vi siete registrati. Queste sono le slide che riassumono quello che ho già detto, quindi social network con Joomla, crea il tuo social network in stile LinkedIn, che fai comunicare il tuo Joomla con i principali social network, poi l'e-learning con Joomla, quindi tecnicamente il bridge tra i due software. E in più c'è il corso che ho fatto di introduzione a Moodle, questo è compreso, quindi è compreso anche il corso di integrazione a Moodle. Adesso parliamo della terza parte che è l'e-commerce, quindi l'utilizzo di Joomla come ambiente di e-commerce. Prima diceva Silvia che lei utilizza altri sistemi come Magento, per esempio, che è una piattaforma di e-commerce, direi stand-alone, cioè è già un CMS il cui unico obiettivo è essere una piattaforma di e-commerce. Quello che invece andiamo a trattare noi è l'utilizzo di componenti che si aggiungono a Joomla per realizzare all'interno del nostro sito, del nostro CMS, la componente e-commerce. Vi dirò perché questa scelta rispetto ad avere un unico ambiente, diciamo, destinato ad avere un'unica finalità. Novità del percorso che ho pensato adesso, non c'era quando l'ho disegnato a fine 2013, è l'utilizzo di Payplans. Cos'è Payplans? Payplans è il maggior componente di Joomla per realizzare un sistema di membership. Più avanti adesso vi dirò nel dettaglio. La scelta di Payplans non è casuale, inizialmente avevo scelto Akeba Subscription, però il componente di Akeba per le sottoscrizioni adesso non è più sviluppato, vi dirò un po' meglio. Quindi la scelta direi obbligata va su Payplans, anche se è un componente commerciale. Questo modulo è sviluppato a partire da questo primo webinar, che è di base, aperto a tutti e gratuito, a cui seguiranno due, forse anche tre, dipende dai tempi che mi serviranno, per parlare dei due componenti. Quindi in teoria un webinar per trattare di Cash Shop, un webinar per trattare di Payplans, però se dovesse essere necessario chiaramente si utilizzeranno più webinar rispetto ai singoli componenti. Ok, questo in realtà è più di 20 ore in parte registrato, in parte live. L'abbiamo proposto a 99 euro, però non compratelo perché durante il webinar vi darò un codice sconto per poter comprare tutto il pacchetto a 89 euro, mentre l'e-commerce attualmente è in offerta a 39 euro. Allora, detto questo, mi fermo un attimo, intanto perché siamo di più, quindi benvenuto ai nuovi arrivati. Vi chiederei un minimo di feedback su questa panoramica iniziale, giusto per avere anch'io un ritorno sul fatto che mi ascoltiate, che siete presenti, che non sto parlando da solo. Piero ha alzato la mano, perché? Piero mi scrivi un attimo sulla domanda qua. Ok, grazie Giorgio. L'audio vi arriva bene? Il volume? Non è basso, alto? Io parlo a distanza di, diciamo, mezzo metro dal microfono. Non mi avvicino molto perché altrimenti mi avvicinerei troppo alla webcam. Nel caso posso anche aumentare un pochettino il... Però io ho un ritorno in cuffia che sento, mi sembra abbastanza... Perfetto, grazie Stefano. Allora, andiamo avanti molto velocemente su quella che è l'introduzione a... A Joomla vado molto molto veloce perché questi argomenti li trovate sulle registrazioni che abbiamo fatto a fine 2013 e poi sono argomenti del corso base. Quindi noi adesso stiamo trattando, stiamo lavorando con Joomla 2.5 LTS. La differenza tra LTS ed STS è il tempo relativo al supporto. LTS sta per Long Term Support, quindi è un supporto a lungo termine, e STS è Short. Normalmente Joomla lavora per salti di supporto a lungo termine, quindi attualmente il Joomla ufficiale a lungo termine è il 2.5, però c'è il passaggio al 3.5 che diventerà tra un pochettino il Joomla LTS, quindi Joomla a supporto lungo. Quelli intermedi sono fondamentalmente delle versioni beta, anche se non è ufficiale, il numero non sta per beta, però ufficialmente le versioni che vanno dalla 0 alla 5 sono versioni beta, quindi a supporto breve, mentre la .5 è un supporto a lungo termine. Attualmente in segnalo è sulla 2.5, probabilmente d'estate 2014 migreremo alle 3.5. chiaramente ancora è ampiamente supportato, infatti è uscita la settimana scorsa una release di sicurezza 2.5, 18 mi pare se non sbaglio, di sicurezza sulla 2.5. Ok, infatti mi conferma Giorgio. Quindi attualmente stiamo parlando della versione attuale della 2.5 su cui vi farò anche le mie dimostrazioni pratiche, però fondamentalmente sapete bene che dal punto di vista del framework non cambia molto sul singolo componente. Il fatto che Joomla sia un ambiente che lavora in ambito web server credo che sia ormai fondamentalmente una nozione abbastanza diffusa, ormai è chiaro che per lavorare su Joomla abbiamo bisogno di un web server, lavoriamo anche in locale perché c'è questa slide per un motivo molto semplice, perché all'interno del Joomla base gratuito che trovate su insegna.it è riportato XAMPP come server locale per fare i testi. In realtà io consiglio di non utilizzare XAMPP ma di utilizzare Bitnami. Bitnami è un applicativo che si scarica direttamente dal sito bitnami.com, se non sbaglio comunque si trova facendo semplice ricerca ed non è altro che un ambiente che installa di base sia Apache, sia MySQL, in ambito Mac, in ambito Windows e poi c'è le application, quindi posso scaricare Bitnami con l'application Joomla o posso scaricare Bitnami di base e poi caricarci sopra tutte le varie application, le applicazioni che sono veramente tante. Quindi in questo modo potete provare una quantità molto alta di componenti su un server locale che può un server di localhost. Ok, differenza front-end e back-end lascerei andare perché direi che tra i partecipanti penso che sia già ampiamente conosciuto questo lavoro. Le differenze di base di Joomla anche questo lo do per scontato, quindi lavoriamo con gli utenti, con i contenuti, rispetto al menu e rispetto a tutti gli aspetti delle estensioni, quindi al componente che non è altro che un software, al modulo che è un pezzo del componente che però lavora in interazione sul front-end, il plugin invece che è un pezzo del componente che lavora invece in modalità macchina, quindi fondamentalmente si richiama direttamente, non si richiama direttamente ma non tramite codice e poi il template che è quello di base. Maria non vede l'avanzamento delle slide, mi dite se è un problema vostro che le slide sono bloccate di tutti o soltanto di Maria, per favore mi date un feedback su questo, perché altrimenti Maria potrebbe uscire e rientrare. Qualcuno che mi dica se le slide vanno tranquillamente avanti? Piero non vede le slide, ma cosa vedete dello schermo? Allora provo a chiudere e riaprire lo schermo. Adesso ho riaperto lo schermo. Va avanti o resta fermo? Ok, ora si vede la dodicesima, però vorrei capire se riesce ad andare avanti, perché altrimenti vado a tutto schermo con le slide. Se faccio precedente, aspettate, questo è un test importante per me. Ok, adesso sono alla undicesima, frontend e backend, dove cambiano? Perfetto. Cambio, funziona, va bene, ok. Quindi adesso si vede la dodicesima. Ditemi sempre quando c'è qualcosa che non va, perché io non ho, di solito siamo sul webinar con un tutor che mi aiuta, però in questo momento sono da solo, quindi ho bisogno del vostro aiuto anche di questi scambi. Quindi gli aspetti generali Joomla io li lascerei da parte, sia perché sono all'interno del corso base, sia perché se andate sulla pagina in segnalo di Joomla per tutti trovate già le registrazioni di queste parti. Mi concentrerei subito sull'aspetto e-commerce, prima però di andare sull'aspetto e-commerce, chi tra voi ha una competenza bassa? Andiamoci al contrario, perché secondo me avete tutti una competenza alta di Joomla. Chi ha una competenza bassa di Joomla? Stefano, ok, va bene Stefano. Allora, chiaramente non è questo il contesto per preparare Joomla, puoi riascoltare le registrazioni che stanno direttamente sulla pagina di Joomla per tutti o anche andarti ad ascoltare tutto il corso base che è molto completo e complesso nel suo insieme. Però qua adesso ci concentriamo sull'e-commerce. Allora, intanto fare business con Joomla, è importante questa differenza, fare business con Joomla, non fare e-commerce con Joomla. Perché? Qua vengo alla differenza iniziale, di cui parlava anche Silvia, che ci ascolta, e diceva Silvia... Ok, diceva Silvia, io ho provato altri CMS dedicati esclusivamente all'e-commerce. Uno tra tutti, quello più importante è Magento. Tra l'altro Magento lo trovate dentro Bitlami per poterlo scaricare e analizzare all'interno, quindi guardare. Perché noi non utilizziamo, non vi sto proponendo un CMS dedicato all'e-commerce, quale potrebbe essere Magento, ma vi sto proponendo un componente per Joomla. Proprio la differenza sta tra queste due prime frasi. Fare business con Joomla non solo e-commerce. Perché noi tramite Joomla, quindi tramite un software CMS che ci consente di gestire pagine, ci consente di gestire utenti, e ci consente di gestire tantissime cose tramite i suoi componenti che sono veramente sterminati. Noi creiamo un'infrastruttura che diventa poi la base sopra la quale andare a montare anche l'e-commerce. Ma il nostro obiettivo potrebbe non essere soltanto quello di fare e-commerce, ma soprattutto quello di fare business. Che significa? Significa prima di tutto la presenza. Significa lavorare per avere un sito che in qualche modo contiene contenuti validi, contenuti di valore, e che fondamentalmente è ben indicizzato. Questo è la base, diciamo, di tutti gli ambienti che poi vorranno fare e-commerce, però è la base per chi vuol fare business. Questo è quello che con Joomla ci viene più semplice. Cioè Joomla come contenitore di contenuti, chiaramente è la sua natura, ci consente di realizzare un ambiente che a partire da quei contenuti ci fa posizionare su internet per realizzare una presenza vera all'interno dei motori di ricerca dentro Google prima di tutto. Poi l'altra scelta è relativa a tutto il percorso che abbiamo proposto con Joomla per tutti, che non è soltanto l'e-commerce, ma è poi quello di insegnalo, che è contenuti, che è e-learning, e che poi soprattutto è anche e-commerce, ma non è solo e-commerce. Quindi, se ci interessa fare attività online di e-commerce, ma non ci interessa fare soltanto il carrello, quindi mettere giù soltanto un carrello, allora l'obiettivo è quello di lavorare con Joomla più i suoi componenti. Tra l'altro, tra l'altro, è proprio l'esigenza della membership a valore a questo discorso, perché è proprio l'esigenza di membership, di cui adesso vi parlerò, quindi di un abbonamento a sottoscrizione, fa sì che noi dobbiamo naturalmente lavorare con Joomla e non con componenti che fanno magari anche meglio, attenzione, magari anche meglio, perché Magento tendenzialmente, visto che è dedicato, potrebbe anche fare meglio. Non lo so, però magari potrebbe fare meglio, però è specifico, però è un ambiente dedicato all'e-commerce. Invece con Joomla siamo su un contesto di contenuti che è anche e-commerce. Quindi, quando dico che il nostro obiettivo è quello di fare business con Joomla, non solo e-commerce, intendo dire che prima di tutto dobbiamo avere una presenza sul web con contenuti validi, quindi dobbiamo curare gli aspetti del SEO o SEF, quindi del Search Engine Optimization o del Search Engine Friendly. Significa un mondo che non voglio aprire, perché appena apro questo apro veramente un mondo. Significa la scrittura di testi in un certo modo, significa tutto quello che riguarda il metatag. Però, per Joomla ha alcuni aspetti che sono questi tre, che sono di rilievo. Allora, il SEO con Joomla, Joomla è dal punto di vista del SEO un ambiente molto avanzato, ci consente di creare, di lavorare sul SEO con strumenti interni. Qua vedete appunto un print shop dell'amministrazione, dove possiamo attivare il SEF, quindi l'opzione per gestire dei link friendly, amichevoli. Riscriverli, quindi normalmente Joomla lavora con index.php, slash, poi il nome del componente e poi tutti i codici di lavoro del componente stesso. Però, se noi utilizziamo, riscrivi URL con questo aspetto URL, SEF, quindi in qualche modo diciamo a Joomla di riscrivere in maniera tale da avere una URL che sia amichevole, normalmente intellegibile, con, se vogliamo, il suffisso del URL, quindi appunto HTML. Perché c'è questo punto esclamativo qui? Perché l'utilizzo del SEO, l'utilizzo quindi di questo componente SEO interno a Joomla richiede la configurazione del file htaccess, che è un file che normalmente si installa con Joomla, però di solito è disabilitato, di solito ha l'estensione .txt perché è disabilitato. Si deve abilitare togliendo il punto txt e mettendo il punto all'inizio del file htaccess e poi si deve andare a configurare all'interno togliendo alcuni parametri che sono commentati. Se cercate su internet trovate facilmente delle guide, però si deve fare altrimenti non funziona il componente di riscrittura di Joomla. C'è da dire che il componente htaccess non funziona su server Microsoft, quindi funziona su server Apache Linux e soprattutto funziona se è abilitato sul server Apache il mod rewrite, diciamo che fondamentalmente è abilitato sul 90%, sul 99% dei server che normalmente si utilizzano per contenere i nostri siti internet. Oppure possiamo farlo con componenti che si installano dall'esterno, per esempio quelli più famosi possono essere il 404 Ceph o il Joom Ceph. Sono componenti esterni, anche qua non mi dilungo perché necessiterebbe avere un webinar soltanto per parlare di questo, però anche qui su internet trovate molta documentazione. Il 404 Ceph è quello più utilizzato. Vado velocemente avanti. La sitemap, per chi non lo sapesse, è un file che consente di comunicare ai motori di ricerca e a Google in particolare la struttura del nostro sito. Quindi è un file fatto in XML che consente di dire a Google, prima forse non ho detto Google, di dire a Google qual è la struttura, l'albero delle pagine del nostro sito in maniera tale che Google vada a leggere direttamente con i suoi spider le pagine senza andarle a cercare direttamente con i link interni. Quindi velocizza quella che è l'inserimento delle pagine dentro Google. Anche qua è importante utilizzare un componente per Joomla per velocizzare questo lavoro, tra l'altro è un componente molto buon componente e soprattutto, attenzione, quando trattate di questi componenti trasversali, cioè generici, attenzione che abbiano una buona compatibilità con altri componenti. Cioè, mi spiego meglio, se io utilizzo un componente per generare una sitemap, questo componente per generare una sitemap deve a sua volta andare a leggere tutte le pagine, per esempio, del componente di e-commerce. Nella fattispecie, quello più utilizzato per sitemap, il componente più utilizzato per sitemap è xmap, xmap che è un componente gratuito e che è molto trasversale, quindi ha dei plug-in per i maggiori componenti generici che aggiungono pagine al nostro sito. Vado velocemente perché sono notizie in realtà importanti, però non è l'obiettivo del nostro webinar, quindi nel caso scrivetemi subito una domanda se devo soffermarmi in particolare. L'altro punto invece molto 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 importante, soprattutto dal 2013 in po' da adesso, è il concetto di authorship di Google. E' inutile nasconderci, i nostri siti ci sono online e ci sono presenti su Google. Devo lottare io con gli utenti perché ormai è prassi condivisa tra gli utenti di utilizzare Google come fosse la barra degli indirizzi del browser. Diciamo che, adesso non so la percentuale, ma una maggioranza molto ampia di navigatori su internet oggi mi scrive il www.sito.it non sulla barra dell'indirizzo del browser, dove andrebbe chiaramente, ma su Google. Chiaramente facendo un favore grandissimo a Google perché in questo modo gli consente di aumentare ancora di più l'analisi di quello che succede tra i suoi utilizzatori. Vabbè. Però questo che significa? Significa che su Google bisogna esserci, bisogna esserci anche bene. Grazie Giorgio che conferma questa ipotesi perché ormai io lo vedo ovunque, ogni volta devo dire, ok, cominciamo dall'ABC, l'ABC della navigazione su internet. Ok, volevo aprire una parentesi ma evitiamola. perché è importante oggi l'autorship? Da quando Google ha messo Google Plus come centro, quasi come ecosistema del suo motore di ricerca, tutto quello che naviga attorno a Google Plus, quindi post, utenti che condividono qualcosa, YouTube, che diventa anche questo un aspetto importantissimo del posizionamento. Giorgio, ottima afferrazione. Dicevo, YouTube è anche questo un elemento fondamentale dell'ecosistema di Google. Fa sì che il concetto di authorship è collegato quindi a Google Plus. Qual è la cosa? Magari l'avete visto tutti. Quando cercate qualcosa, per alcuni componenti vi compare l'avatar, la fotografia di chi ha scritto quell'articolo con il link a quell'articolo stesso. Direi che uno tra tutti, non so se la condividete anche voi, ma adesso il nome è preciso, mi sfugge, Aranzulla, o qualcosa del genere, compare sempre, riuscite a posizionarsi in maniera incredibile, qualsiasi cieca facciate, compare sempre, Aranzulla, qualcosa, è lui, va. Questo ne parlo un pochettino nel dettaglio, sono la slide 14, mi raccomando che tutti la utilizzino, che tutti la possiate vedere in questo momento. Come si fa con Google, ma in realtà in generale, con tutti i sistemi, a lavorare con il concetto di authorship. Sono quattro passi importanti, ve li con il dettaglio, perché è molto importante. Intanto, punto uno, dovete avere il vostro account personale, come autori, su Google+, e soprattutto all'interno di Google+, dovete andare sull'impostazione del profilo, che è in modifica profilo, e andare a scrivere che voi siete dei contributori, autori che contribuiscono, quindi Google scrive contributori, autori che contribuiscono al sito, quello che sia. Quindi, parte Google+, dovete andare a indicare che siete contributori di quel sito. Sul vostro sito, quindi sul vostro Joomla, dovete creare una pagina, vostra, con quello che volete metterci, vostri biografia, fotografia, quell'altro, però è importante che ci sia in questa pagina un link al vostro profilo Google+, quello che finisce con tanti numeri, e soprattutto questo link contenga il tag rel uguale mi, ok? Fondamentale, rel uguale mi. Pagina vostra, quindi, magari che si chiama col vostro nome, che contiene tutto quello che volete, però ci deve essere sotto, normalmente una scritta, comunicami con, tramite Google, questo è il mio profilo Google, non importa, però è importante che ci sia il tag rel uguale mi. Punto 3, collega tutti gli articoli tuoi, ovviamente, gli articoli che scrivi tu, alla fine, tra l'altro adesso lo trovate ovunque, su tutti i blog, su tutte le pagine, ormai lo trovate ovunque questa cosa, con l'autore, potete scrivere quello che volete, l'autore di questo articolo è Fabio Ballor, è importante però avere un link, magari su Fabio Ballor, quindi sul nome dell'autore, che porti alla pagina, quindi un link in cui href sia la pagina che abbiamo creato prima, e che però dentro questo link ci sia il rel author, ok? Fatto questo, posso andare a verificare, dentro un tool che Google ha messo a disposizione, dentro webmaster, dentro i tool di webmaster, quindi la url è, sono moderato webmaster slash tools slash rich snippets, slash snippets, sì, dovrebbe essere questo, ok, va bene, allora vado, vado, un po' più avanti, tutto chiaro sino adesso? grazie, allora, la slide sono arrivata alla 15, nel caso in cui non sia anche cambiata per voi, me lo fate sapere, allora, e qua riprendiamo, qua riprendiamo il concetto che avevamo affermato prima, rispetto all'utilizzo di software per l'e-commerce, intanto, quale software? già abbiamo superato questa domanda, software stand alone, ovvero software specifico per l'e-commerce, quale magento componente? con Joomla andiamo un po' di più, perché abbiamo un sistema che parte da un CMS, già con i nostri contenuti, a cui agganciamo il carrello, ma quale componente? allora, se in questo momento provate a fare una ricerca in giro, trovate che il componente più utilizzato è Virtuomart, Virtuomart è il componente più utilizzato per un motivo molto semplice, perché è gratuito, è un componente sviluppato in modalità, diciamo, diffusa, quindi, un po' come Joomla fondamentalmente, quindi ognuno si occupa di portare avanti una parte, però il risultato concreto è che Virtuomart è molto difficile da mettere subito online. con Insegnalo due anni fa abbiamo fatto un po' un lavoro di analisi comparate, alla fine abbiamo trovato Icashop, il miglior software per l'e-commerce che potevamo trovare, per alcuni motivi. allora, intanto affidabilità e flessibilità, l'affidabilità è quella del team che lo sviluppa, Icashop è un componente commerciale, quindi a pagamento, però che ha una versione gratuita che secondo me va bene per una buona parte degli utenti, quindi direi che se non avete necessità particolari, Icashop va benissimo, poi vedremo un po' la differenza. Il team che lo sviluppa è francese, e questo ci rido sopra perché io lotto quasi quotidianamente con il mio commercialista, perché naturalmente io porto avanti delle istanze di attività online, mentre lui, il commercialista, porta avanti delle istanze di chi lavora con la stragrande maggioranza di clienti che sono fondamentalmente aziende tradizionali. Quindi, già per riuscire a farmi convalidare, ovviamente lui è un tramite, perché lui mi dice quello che devo fare corretto per l'agenzia delle entrate, non è facile cambiare commercialista, Giorgio, non è per niente facile, però è una persona molto brava perché alla fine riusciamo a trovare la soluzione migliore per l'agenzia delle entrate, cioè quella che poi è la dichiarazione vera. Vi dico una cosa banale, proprio banale, però che non è banale per chiunque di voi abbia una partita IVA, è la formattazione delle fatture. Allora, io sto utilizzando, provando alcuni sistemi, tra l'altro alcuni sistemi anche sviluppati da team che non sono in Europa, ma sono ovunque, Sri Lanka, India, America, ovunque, perché sapete bene che con Joomla voi potete utilizzare qualsiasi componente, non vi interessa se l'ha sviluppato l'amico dietro casa o un team che se ne sta in India o in America o dunque sia, però, per esempio, un componente che ho utilizzato, che in parte è anche Payplans, non fare fatture con una progressione numerica successiva. Allora ho detto al commercialista questa domanda specifica, ma io devo obbligatoriamente avere una fatturazione che sia con un numero univoco, o questo numero univoco deve essere anche progressivo partendo da 1 e arrivando a X. Allora, intanto già rispetto allo scorso, o due anni fa, in cui c'era una norma che ogni anno bisognava partire sempre da 1, quest'anno, forse anche dal 2013, l'altra visione non lo so, però so che adesso le fatture possono anche avere, una numerazione che va avanti sempre col numero, però è importante che ci sia anche il riferimento all'anno. Però lui mi ha detto che per la contabilità italiana io non posso avere una fattura che abbia un numero univoco, ma casuale, perché la maggior parte dei sistemi mette un numero casuale, che è poi il numero dell'ordine, ma deve essere un numero progressivo, obbligatoriamente. Quindi, il fatto che i cash shop sia sviluppato da un team europeo, francese, fa sì che molte delle istanze che sono nostre, perché in realtà sono della comunità europea, vengano soddisfatte dal componente stesso. Questo troverete che è un aspetto non banale. cosa che invece altri componenti non hanno, se non dietro a vari smadonnamenti sul codice. Poi, un altro aspetto è la flessibilità col meccanismo override che è proprio di Joomla. C'è la possibilità di non intervenire sul codice sorgente, ma di aggiungere pagine che sono delle viste, che quindi non vanno a modificare quello che è il core. sapete bene questa com'è una fondamentale esigenza quando aggiornando io un componente ho necessità che questo componente non vi vada a cancellare tutto il lavoro che ho fatto. E questo è specifico di i cash shop. Andiamo all'altro aspetto. Perché la membership? Perché abbiamo avuto un'esigenza su insegnalo.it che è quello di utilizzare la vendita di un diverso prodotto cioè scusate la vendita di uno stesso prodotto che però evolve nel tempo. Allora, io col carrello vendo un prodotto ma la vendita è one shot ce lo vendo ad una persona che lo compra e basta la vendita finisce là. Se soprattutto questa vendita è collegata a Joomla scusate se soprattutto questa vendita è collegata a Moodle non so chi tra voi ha fatto tutto il percorso del percorso di Joomla completo e sa bene che questo è un aspetto molto molto importante perché perché l'iscrizione a Moodle è guidata dal plugin di iscrizione quindi l'utente compra qualcosa questo qualcosa attiva un carrello quindi attiva una transazione se la transazione arriva a buon fine nel caso in cui nel caso nostro quindi del bridge con Moodle questo attiva su Moodle l'iscrizione dell'utente quanto deve stare l'utente scritto sul Moodle noi abbiamo fatto una scelta alcuni di voi adesso che hanno attivato dei corsi si sono visti consegnare un un'email di scadenza perché abbiamo fatto una scelta che è la seguente il nostro corso fatto tendenzialmente online quindi live da la possibilità di visualizzare le registrazioni per un tempo limitato scaduto quel tempo l'utente viene disiscritto quindi viene l'iscrizione viene tolta però che cosa succede nel momento in cui la mia necessità è anche quella di dare a chi si è iscritto un ulteriore avanzamento del tempo che magari non sono i i sei mesi l'anno che ha di configurazione Moodle ma io voglio dare al mio utente la visualizzazione parlo di insegnano ma ognuno lo può tradurre con il proprio sito o il proprio servizio la visualizzazione del servizio per un mese piuttosto che per tre mesi piuttosto che per un anno piuttosto che per un giorno ecco che con con ikashop con e-commerce non posso più fare questa cosa perché nel caso mio di di Moodle l'iscrizione è standard io utilizzo quell'iscrizione perché utilizza quel plug-in dell'iscrizione altro esempio questo è quello che adesso si sta molto utilizzato molto su internet si chiede all'utente al cliente l'iscrizione all'abbonamento a un qualcosa che evolve nel tempo quindi ti dico guarda compra questo servizio mensile o trimestrale io mensilmente o trimestralmente o quello che sia lo vado ad aggiornare nel caso del carrello noi avremmo il problema che la persona deve materialmente comprare ogni mese ogni tre mesi quel prodotto onestamente la vedo difficile che una persona che compra carrello un mese dopo un mese vada di nuovo a comprare dopo un mese deve essere molto molto motivato per farlo questo è l'esempio dell'abbonamento della membership io mi abbono al servizio l'abbonamento fa sì che mi si attivi se questo è ridondante quindi se ha un scusate non ridondante ma è ricorsivo quindi se ha una ricorsività mi attiva un pagamento ricorsivo su paypal che tra l'altro per il cliente è molto molto semplice da disdire basta che va sul paypal e clicca su annulla e l'abbonamento viene subito annullato però fa sì che il nostro utente cliente non si debba sempre iscrivere ma l'iscrizione avviene una volta sola converrete con me che la differenza è notevole oltre al fatto che io posso dare un servizio di un prodotto anche per un'ora per un giorno per tre mesi per un mese per un anno quello che sia questo anche qua ho fatto ho installato molti plug-in quelli più famosi sono quello quello più famoso è Akeba Subscription Akeba Subscription Akeba è la software house che sviluppa uno dei plug-in più utilizzati su Joomla che è Akeba By Backup che è quello che utilizziamo anzi se non lo utilizzate vi invito a utilizzare che è quello che ci consente di fare il backup del nostro sito del database e di quant'altro versione gratuita e versione a pagamento però Akeba By Scusate Akeba Subscription è componente gratuito non è più non è più stato sviluppato è stato lo sviluppo è stato interrotto infatti se cercate Akeba Subscription andate a finire su una pagina in cui i sviluppatori dicono che il software non sarà più sviluppato e sapete bene come un software se non è più sviluppato è a rischio per noi e per i nostri clienti noi dobbiamo sempre utilizzare software componenti che vengono costantemente aggiornati e sviluppati la scelta poi è caduta su Payplans per quanto sia un componente commerciale anche con un costo non proprio accessibilissimo poi lo vedremo per la quantità di applicazioni che ha a disposizione loro le chiamano app sono più di 120 app che consentono di collegare Payplans a tutto praticamente a tutto quindi io posso vendere in abbonamento tutto quello che ho su Joomla che sia una pagina che sia un documento che si scarica da Docman che sia un corso su Moodle che sia una qualche cosa che non lo so però vi farò vedere ha una quantità di componenti spaventosa di applicazioni aggiuntive veramente spaventosa e quindi è una scelta direi non difficilmente equiparabile ad altre allora qui mi fermo di nuovo per avere un attimo feedback da voi per sapere se quello che sto dicendo è nuovo vi interessa visto in qualche modo dicendo le cose che possono interessarvi a me interessano perché mi appassionano un po' queste cose però però ci ho messo su anche un progetto che è quello insegnano.it ma mi rendo conto che non non si Piero Piero scrive si si continua fammi riprendere anche un po' fiato perché un attimo mi servono anche questi feedback mi servono anche per per riprendere anche un po' fiato anzi io berrei anche un po' di acqua metto in pausa la registrazione bevo un gozzo d'acqua va bene allora andiamo allora se non ci sono domande particolari vedo che i più attenti sono Piero Maria e Stefano gli altri o si sono addormentati o ci hanno abbandonato non lo so però intanto la registrazione la stiamo facendo quindi poi la metteremo a disposizione di tutti gli iscritti almeno una parte anche Giorgio sì Giorgio dice interessante il concetto di carrello servizio ricorsivo è molto interessante adesso bisognerebbe capire ognuno di voi che esigenza ha però per le nostre esigenze si sta rivelando ancora non l'abbiamo non è non è operativo però chiaramente abbiamo fatto delle prove si sta rilevando molto interessante mettete per esempio uno tra tutti abbiamo intenzione di lanciare ve lo dico in anteprima quanto prima lo faremo la possibilità di assaggiare proprio diremo così assaggialo un corso e quindi sarà l'accesso che poi si realizzerà tramite un accesso a zero quindi gratuito però di 15 minuti quindi in 15 minuti la persona ha la possibilità di vedere entrare dentro il nostro raso dentro Moodle guardare il corso farsi un'idea di quello che c'è all'interno e eventualmente acquistarlo capite bene questa è un'interessante un'importante roba che diciamo attività che possiamo dare possiamo dare ai nostri clienti allora vado vado avanti ah ecco qua qua quale software per la membership abbiamo già parlato la differenza tra anche WhatsApp subscription e Payplans queste sono alcune delle interessanti feature di 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 Payplans che sono vabbè l'interfaccia gradevole i log di tracciamento questo qua ha più di 120 applicazioni per ampliare l'esperienza dell'uso è un pdf professionale quindi una fattura una fattura in pdf l'app manager che sarebbe l'installazione è una cosa interessante che hanno sviluppato la prima volta che la vedo da loro per contrastare la pirateria loro hanno fatto sì che tutte le app che poi in realtà non sono altro le plug-in di Joomla non si possono o meglio si potrebbero installare però non le fanno scaricare come file separato ma lo si scarica attraverso un'app manager che è dentro l'installazione ovviamente tramite un username ed una password che è quella del cliente che ha acquistato rispondo a Giorgio parliamo indifferentemente di Joomla 2.5 e di Joomla 3 perché per esempio differenza di Virtual Mart che ancora non è sviluppato per Joomla 3 sia Payplans che i cash shop sono sviluppati su piattaforma 2.5 che 3.x ma la differenza è semplice essendoci dietro un'azienda in entrambi i casi hanno l'esigenza di andare velocemente sull'aggiornamento mentre un software completamente gratuito ha dei tempi di sviluppo molto allora ho detto molto tranquillamente su Insegnano ho fatto una scelta che è quella dell'open source per ridurre i costi di start up e di investimento iniziale però questo non mi ha portato parlo me personalmente come fondatore non ci ha portato come gruppo di lavoro a scegliere componenti che sono completamente gratuiti ma scegliamo direi la maggior parte dei componenti commerciali per due motivi fondamentali uno quello che abbiamo detto è la velocità di aggiornamento quindi se c'è qualche problema subito ci deve essere ci deve essere la necessità di qualcuno che mi va corregge se è un bug se è qualcosa due se io come diciamo noi all'interno non abbiamo una figura prettamente informatica quindi se ho qualche difficoltà che non riesco a superare al mio livello di accesso che per quanto conosca il php e sappia scrivere in php non è chiaramente quella di un informatico professionista ho necessità nel caso di problemi di qualcuno quindi un team di supporto che mi risponda subito quindi sto investendo in componenti commerciali piuttosto da investire con un informatico esperto dentro chiaramente poi uno si fa i conti i conti personalmente ritengo che questi conti siano tendenzialmente intorno direi meno di 1000 euro l'anno di sottoscrizioni componenti ma molto meno forse intorno a 6-700 euro l'anno diciamo da 500 a 700 euro adesso quindi con 500 700 euro l'anno mi garantisco software sempre aggiornato e team di supporto che mi aiuti nel momento in cui ho difficoltà questo col codice con le componenti completamente free potrei non 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 averli questi questi tempini di risposta quindi una scelta commerciale esclusivamente una scelta commerciale chiede Giorgio se per chi parte subito con la 3 sì Giorgio assolutamente sì per chi parte subito con la 3 con l'ultima versione anche perché altrimenti il passaggio poi dipende attenzione se dipende adesso dovremmo essere a che componente di a che versione di 3 siamo arrivati qualcuno me lo dica per favore perché non lo ricordo però dovremmo essere da componente di 3 quasi vicino alla 3.5 già quindi già l'ETS ancora siamo sulla 3.2 solo indietro perché rispetto a quella mappa la 3.5 doveva essere già già pronta a inizi del 2014 però direi che a meno che non ci troviamo in un sistema critico nel senso di particolare però direi di partire con la 3.2 adesso i nostri progetti li metto su subito con la 3.2 sì sì certo allora dicevamo qua quindi supporto per diversi tipi tipologie gateway di pagamento cioè di piattaforme di pagamento supporto di linguaggio più linguaggi questa è la cosa che ci ha fatto scegliere il punto 8 la possibilità di creare micro subscription cioè sottoscrizioni anche solo per un minuto ovviamente non ha senso fare la sottoscrizione già il tempo che fai sottoscrivi già ti è passata però c'è la possibilità di farlo diciamo loro dicono per un'ora ha più senso poi quest'altra cosa interessante anche questo è stato un elemento di scelta cioè si aggancia con i social network e fa in modo che tu possa fare il mi piace il più uno sui vari social e questo ti dà subito la possibilità di un sconto quello che sia sul 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 tuo sistema di pagamento o sul carrello Giorgio scrive forse però forse è relativo alla 3.2 allora andiamo avanti perché ah prima di andare avanti questa cosa che che mi sta facendo drizzare molto le orecchie come sto attivando attenzione perché anche gli aspetti del commercio elettronico richiedono delle 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 dell'attenzione sul sulla questione della privacy soprattutto dell'accettazione delle norme di vendita quindi il nostro sito deve soddisfare quelle che sono alcune caratteristiche qui e qui è molto contraddittoria questa cosa perché alcuni dicono che basta il check che il cliente clicca altri dicono sì ma bisogna fare in modo che l'utente dimostri che abbia effettivamente accettato questa cosa sta cosa è un po' un po' controversa un dato di fatto è che la corte di finanza fa un sacco di multe questo questo è un dato di fatto per cui attenzione su questa eh Giorgio ci dice mi pare che siano i tre click tre click necessari da registrati al log poi Giorgio se ne sai qualcosa di questo aspetto interessa anche a me quindi nel caso chiedimi la parola e te la do tranquillamente allora chiudo questa parte poi io adesso vado subito in condivisione dicendo che per i partecipanti al webinar abbiamo abbiamo pensato di se va avanti si è bloccato vabbè ve la dico da qua faccio vedere la qua abbiamo pensato ad uno sconto sul sul corso completo sbaglio fino al 16 febbraio basta inserire questo codice sconto che è Joomla per tutti con la col per grande mi pare per grande sì ok vediamo se qua si vede adesso ok si è comparso benissimo Giorgio su questa cosa vuoi intervenire a voce tre passaggi mi spieghi meglio ti do ti do subito Giorgio ti do subito la parola perché ci sto ci sto ragionando anch'io ok prova ti sentiamo puoi parlare sì sì grazie ciao ciao grazie quindi ok quindi anche nel caso di Paypal l'inserimento dell'email da parte del cliente sul 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 Paypal sulla pagina quello sarebbe un ulteriore step di passaggio quindi certo ok ok vedremo di trovare qualcuno che ne sa di più anche perché questa grazie Giorgio comunque questa tematica secondo me è abbastanza anche controversa nel senso che magari ci sono interpretazioni però quello che tu ci hai detto è già un ulteriore passo passo avanti IcaShop ha questi passaggi quindi consente di configurare tra l'altro anche in maniera molto semplice attraverso un drag and drop consente di configurare quelli che sono gli step di che l'utente deve seguire per per registrarsi per acquistare quindi tutti i vari passaggi allora detto questo ci sia qualcun altro che vuole intervenire vediamo un po' il tutto quello che ci sta dietro anche qui velocemente perché vi dicevo nei prossimi incontri andremo nel dettaglio delle configurazioni va bene se non c'è nessuno che scrive che scrive qua in chiamiamo la chat in realtà è un sistema di domande e risposte perché GoToWebinar non ha la chat inserita sui partecipanti allora questi questo sono adesso sul sito di sul sito di ikashop ikashop.com vediamo subito le tre le tre i tre livelli di ok Stefano i tre livelli di accesso quindi i tre livelli di di acquisto di acquisto del software quello starter che è gratuito essential e business allora queste sono le feature tutte le varie attività vedete che per una parte principale sono comuni quindi la gestione la possibilità di creare categorie diverse categorie e poi vediamo un po' download file il page i prodotti collegati le varianti di prodotto poi invece quando cominciamo a dare le opzioni di prodotto già queste sono un po' più strutturate quindi già sono per livelli maggiori la possibilità di generare un file questo poi nel dettaglio di tutti questi punti centreremo centreremo durante i webinar di dettaglio perché ci saranno almeno due webinar se ne serve qualcun altro lo faremo uno dedicato esclusivamente a e-cashop che entra subito nel pieno del software e l'altro dedicato a pay plans e quindi vedremo un po' questi aspetti qui la possibilità di avere dei campi personalizzati qua il supporto dei produttori poi scendiamo comunque con caratteristiche anche di livello più alto la gestione del prezzo l'unica qua per quello business è l'aggiornamento automatico dei prezzi nel caso in cui ci siano valute su altre valute automaticamente però nel caso in cui l'unica valuta sia l'italiano l'euro il problema non si pone rispetto alla vendita in quelli più avanzati c'è un carrello della watch list quindi la lista il carrello non mi viene la parola quella dove le persone mettono le cose che vorrebbero acquistare un multicard quindi la possibilità degli utenti di avere più più carrelli quindi attivare più carrelli un guest quindi un carrello che si potrebbe attivare per il guest quindi non per l'utente poi tra i plug-in qua il plug-in alpha che è quello dei punti quindi io posso anche utilizzare un sistema punti utilizzando il componente alpha user punt per dare dei punti agli utenti che comprano e la geolocation del plug-in per l'utente che viene geolocalizzato questo soltanto in quello mentre l'aspetto di marketing questo per esempio è l'integrazione con Asimailing è quello che ci ha fatto scegliere il componente più avanzato perché noi utilizziamo Asimailing come componente di mailing per la gestione del mailing marketing e lui è collegato quindi è possibile passare all'Asimailing tutte le liste di chi compra qualunque cosa quindi io posso chiedere Asimail dammi una lista di chi ha comprato questo dimmi chi non ha comprato dimmi chi ha comprato solo in un determinato modo è molto potente questa cosa integrazione con Google Paddocks anche se in Italia mi sa che non si usa questi la possibilità di gestire coupon sconti vale per tutti è un'ottima cosa questa è un'altra delle feature che ci ha fatto scegliere il componente più avanzato cioè il programma di affiliazione di base lui senza installare niente ti fa in modo che chiunque condivida un banner che tu metti a disposizione generi del credito genera del credito per questo quindi se una persona mette sul proprio sito il tuo banner qualcuno clicca su quel banner oppure qualcuno cliccando su quel banner si registra sul tuo sito o ancora qualcuno cliccando su quel banner compra qualcosa chiaramente si personalizza però tutto questo mi genera anche del denaro per i clienti questo noi l'abbiamo l'abbiamo messo su e lo trovate lo trovate andando lo può fare chiunque qualsiasi utente Silvia saluti ok andando su una qualsiasi pagina sul menu sul modulo eccolo qua di personalizzazione il mio insegno e i miei guadagni questo qua mi fa vedere adesso lo vedo io come come amministratore però in realtà lo può vedere chiunque quali sono i guadagni che ha generato l'utente andando a condividere questi che sono dei banner che abbiamo messo noi con tanto di codice per inglobare piuttosto che mettere il link e che ha un id partner ok questo id partner ovviamente tramite un sistema di controllo sull'acquisto passa attraverso i vari step e poi mi genera quelli che sono l'importo per click l'importo per registrazione l'importo per vendita tutto questo è assolutamente integrato nel software ok vabbè poi tutto il sistema di statistiche che chiaramente è più avanzato avanti sui livelli di software così anche come il supporto poi tra le altre cose vabbè qui abbiamo l'integrazione con altri componenti bene visto che ci sono sempre sempre da su sempre qua Ica Shop hanno sviluppato un componente che si collega a Ica Shop e si chiama Ica Ica Market e che consente a chiunque di aprire un sistema di e-commerce in cui i venditori non è non sono soltanto gli amministratori del sito ma sono anche utenti esterni utenti esterni che noi abilitiamo come venditori anche questo l'abbiamo sviluppato su Insegnano perché essendo Insegnano.it una piattaforma multi utente anche multi docente ci interessava questo aspetto quindi i nostri docenti che hanno all'interno di Insegnano.it un prodotto hanno anche hanno un un pannello che è sviluppato con un componente di Ica Shop che si chiama Ica Market che consente di vedere direttamente gli ordini che sono stati sviluppati dai loro prodotti quindi chiaramente questo si configura io qui sono amministratore quindi vedo tutto però potrei andare a vedere quali sono i prodotti che ho caricato potrei andare a caricare un nuovo prodotto quindi la gestione è completamente autonoma front end attenzione sono sul front end non sono sul sul back end da parte del venditore poi qua sconti categorie e poi vedere quali ordini ha generato il suo prodotto va bene qui entriamo su anche aspetti di privacy che meglio su cui soprassilere questo per noi è stata una svolta perché è un un ulteriore componente che si installa ma che ci ha dato un ulteriore slancio sulla scelta di Ica Shop e su tutta l'infrastruttura Ica Market si chiama sta roba ed è sempre collegato Ica Shop allora andando un attimo sulla demo vado un attimo sulla demo loro proprietà è giusto per per far vedere quelle che sono le loro funzionalità chiaramente quando voi vedete una demo di un componente di un template o di un qualcosa sapete molto bene che realizzarla così come è un'impresa però molte cose si possono fare con facilità allora qui abbiamo la home la home del la home del componente perché essendo un componente di Joomla noi potremmo anche utilizzare così come facciamo su insegnalo poi vi farò vedere pagine proprie di insegnalo che contengono però il carrello chiaramente qua ti fa vedere quello che è il carrello vero e proprio però vediamo se ci scrivi facciamo login facciamo una simulazione di acquisto quindi ecco qua acquista aggiunge al carrello qua ti dice se vuoi continuare o vuoi andare al checkout e qui adesso vedremo probabilmente gli step che no va direttamente sul 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 carrello di India però poi vi farò vedere gli step e allora questo per quanto riguarda il carrello poi abbiamo le pagine del prodotto che possiamo gestire con le diverse caratteristiche quindi qua vediamo un prodotto con alcune caratteristiche che ovviamente la caratteristica fa cambiare il prezzo con immagini multiple ok con un layout personalizzato vi dicevo prima la possibilità di lavorare sul template semplicemente inserendo con la modalità overwrite di Joomla dei codici che non vanno a modificare quelli loro di base piuttosto che con delle opzioni in questo caso computer posso gestire delle opzioni queste opzioni mi fanno cambiare il prezzo tutto questo tranne le opzioni sono già nel sono nel base mentre qua c'ho la modalità di visualizzazione dei prodotti quindi posso vedere i prodotti in tabella in formato tabellare oppure in formato div che sono separati tra di loro oppure ancora in formato list quindi un elenco tra l'altro c'è da notare che all'interno delle pagine si possono aggiungere dei moduli qua sotto per esempio c'è un modulo con tutti i prodotti collegati in questo caso sono collegati alla categoria questo display with the effect invece vediamo se me lo fa vedere no mi genera un errore vabbè poco importa le categorie categorie in cui metto insieme div di sopra e list di sotto quindi cliccando sulla categoria vedo sotto in lista i vari prodotti piuttosto che dividiva comunque questo ve lo potete anche vedere voi sono diverse modalità tra le altre feature c'è il programma di affilazione che vi ho fatto vedere il controllo il pannello utente che sarebbe il pannello del customer del cliente quindi che può vedere il proprio carrello quello che ha comprato i suoi ordini accede al programma di affiliazione che è quello che abbiamo visto prima registrazione utente ok sitemap si collega con xmap e poi questo ica market che è invece quello che vi ho fatto vedere su insegna che è invece qua in demo siamo sempre sul frontend qui per quanto riguarda il back end e questo ve lo faccio vedere direttamente da da qua fammi vedere la pagina ok allora aspettate che la diminuisco un po' per entrarci qua sono sul localhost quindi sulla macchina locale allora prima volevo farvi vedere una cosa un attimo all'interno dei diversi corsi quindi faccio vedere come è stato implementato questo su insegnalo.it all'interno dei diversi corsi vedete qui abbiamo questo si riconosce una modalità come elenco piuttosto che se vado io dentro il il prodotto qui utilizziamo noi un componente no in realtà non è questo che devo farvi vedere questo un componente che è zoo quindi utilizziamo per gestire i contenuti zoo come come componente e all'interno tramite un tag quindi parentesi graffa eccetera eccetera mettiamo questo che è il pulsante di acquisto vero e proprio quindi banalmente noi costruiamo la pagina con zoo poi ci andiamo a mettere il tag di e-cashop ovviamente avendo creato prima il il prodotto con l'id del prodotto e qua automaticamente vado mi collego e vado sul sul carrello di sul carrello di acquisto allora questo è gestito rispetto alla configurazione adesso vediamo un pochettino la configurazione vado molto velocemente intanto abbiamo un pannello principale con le informazioni di gestione fondamentalmente del venditore il pannello qui il pannello di check up con quegli step di cui parlavamo prima di cui ci parlava prima Giorgio quindi è possibile attraverso materialmente il drag and drop di questi questi aspetti qua gestire tutto l'iter di 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 navigazione in questo momento è messo su unico step entra indirizzo gestione pagamento stato buono sconto carrello perché fanno tutti i parti in unica pagina ma se per esempio me li sto togliendo per esempio io volessi fare entra qua indirizzo qua poi c'è contributo gestione poi c'è lo stato poi c'è buono sconto e infine c'è il carrello tutto questo si trasformerebbe in degli step separati adesso col beneficio della cosa fatta in diretta vediamo un pochettino se se lui ok allora intanto entro con il mio account vediamo entriamo aspettate perché essendo qua il locale il qua il computer pur essendo molto potente però in questo momento ha due registrazioni full screen che vanno in contemporanea vediamo se mi ricordo che sta password ok allora andiamo subito ad acquistare un prodotto diciamo che il localhost sta faticando a lavorare in questo momento ah cavolo non ve lo posso fare vedere perché in questo momento c'è un blocco di un altro di un altro sistema che stavo testando quello che è il localhost e passate in fiducia tutti questi sono passaggi di un di un di un unico quindi vari step di lavoro chiaramente lo vedremo nel corso nel corso specifico vado subito invece sulla gestione dei prodotti quindi la gestione dei prodotti e qua ho i prodotti che sono stati inseriti nel catalogo ho le categorie posso gestire le caratteristiche per i prodotti posso gestire quelli che sono la traduzione dei cambi fabbricanti ovvero tutti i diversi chiamiamo così autori o produttori distintivi sono i badge poi chiaramente la traduzione in italiano è quella un po' è quella un po' che è qua vedo tutti i miei clienti attenzione perché anche qua è importante un'altra cosa la la fase di registrazione io la curo da John Social e lui i dati li prende da John Social non ha una sua registrazione cioè l'avrebbe però è configurato per andare a prendere registrazione su John Social qua ho gli ordini che ho fatto ok l'ho pulito sono tutti ordini a zero qua sono qua ho i sconti che mi vado a generare i sconti possono essere sia percentuale che un prezzo fisso qua ho i partner che sono quelli che mi hanno inserito che mi hanno generato click con i vari profili di con i vari profili che abbiamo visto prima dei banner che si mettono all'interno del sito qua ho tutti gli aspetti visualizzazione front-end o back-end che mi vanno a definire lo specifico del layout poi Ika Serial è un altro plug-in che abbiamo comprato ma non ci interessa di Ika Market invece sono i venditori quelli che hanno acquistato i venditori che hanno acquistato scusate i venditori che hanno inserito un prodotto a catalogo allora tendenzialmente è molto semplice noi con Joomla abbiamo Joomle che è collegato attraverso un sistema di shop interno qui sono in emulazione con il locale quindi ho qualche errore quindi ho i prodotti quando io vado a dire pubblica qua evento cioè pubblicami questo corso automaticamente lui diventa verde e automaticamente questo corso mi viene pubblicato dentro il mio Ika Shop prodotti quindi il processo di collegamento è veramente corso 1 è veramente automatico vediamo di trovarlo se non è questa categoria è in questa adesso dobbiamo andare a capire in quale categoria l'ha messo vabbè anche questo è fatto in diretta però c'è perché lo lo utilizziamo in questo modo corso 1 si chiama magari si chiama in altro modo vedo così se è l'ultimo inserito nel caso va davanti va beh fidatevi perché questi qua li facciamo automaticamente dal 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 moodle qui sono sul localhost per cui probabilmente il 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 non funziona correttamente e niente poi una volta che sono qua li configuriamo li ottimizziamo e già vanno direttamente direttamente online questo lo vedremo nel dettaglio nel 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 modulo che si in cui si parla di di Ika Shop allora invece poi per quanto riguarda per quanto riguarda invece Payplans Payplans ha la possibilità molto in maniera molto semplice di creare dei piani con con un'aggregazione di prodotti quindi in questo caso io vado a dire un piano e vado a definire questo piano attraverso un prodotto che gli vado a collegare dicevo la potenza di Payplans sta all'interno di queste app che ne ha ben 125 che sono organizzate con le più diverse tipologie di piattaforme di pagamento o componenti di Joomla lo scorro velocemente quindi ognuna di queste mi consente di fare determinate cose da qualche parte erano pure organizzate per categorie vediamo vediamo se vado su dettagli vediamo ora qua mi pare eccolo qua sì eccolo qua dunque qui ci abbiamo allora app essenziali app di accesso quindi controllo utente questi qua mi consentono di dare l'accesso a un modulo quando uno paga attraverso abbonamento dare l'accesso ad un menu quando uno paga un abbonamento vendere un articolo quindi nascondere un articolo e renderlo visibile quando uno paga un abbonamento restringere parti di un articolo qua hai da nascondere lavorare col forum Qnena lavorare con i sublog e i cblog lavorare con poca sono tutte componenti di 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 Joomla lavorare con Docman questo è molto interessante Docman è un componente eh gratuito per gestire documenti lavorare con John Social e Zo Sobi sono gestori di contenuto mostri K2 ancora contenuto integrazioni queste invece integrazioni con eh altre app MailChimp per esempio quindi integrazione con un sistema di di mailing esterno come MailChimp eh altri asimailing i Vitex non so magari qualcuno di voi li utilizza sistemi di pagamento anche qua sono quelli internazionali questo purtroppo è sviluppato dagli indiani vi dico purtroppo perché c'era il problema qui sopra della fattura che ancora devo trovare a risolvere cioè lui la fattura la crea la emette però la emette con un numero che è il numero suo di ordine allora ehm qua ci sono le app di registrazione quindi io posso fare in modo che la registrazione avvenga con questi componenti per scendere poi con le api ehm le application program interface ovvero la possibilità di lavorare per chi conosce il PHP e scriversi direttamente il suo il suo il suo il suo pezzo di di cosa allora vediamolo velocemente subito sempre qui componente per i plans configurazione allora lui ha di base queste sono parti di configurazioni allora lui ha di base quelli che vabbè la dashboard ti fa vedere un pochettino quello che è successo quindi se ci sono stati acquisti e quant'altro membership attivate eccetera eccetera c'ha questo quello che diceva questo pannello di di visualizzazione che è molto effettivamente molto ben fatto la configurazione poi lui si divide in piani le app e le sottoscrizioni quindi io prima devo attivare una app per esempio io qua come app ho attivato ah ok tramite eh eh giungle mi sono io andato a creare automaticamente eh una app per ogni corso quindi io ho una app per ognuno dei corsi caricati su moodle se io volessi creare una nuova app l'app è la base di partenza eh l'app è la base di partenza per creare un piano di sottoscrizione quindi un piano di sottoscrizione deve partire da una un'applicazione in questo caso per esempio io potrei creare un'applicazione su su docman quindi vendere un documento eh piuttosto che vediamo cosa possiamo fare vabbè in questo caso c'è giungle lasciamo questi entro dentro in questo nel caso dell'app di paypal è un'app che ovviamente si va a a configurare con con l'email del del venditore e qua soprattutto vi dico applica a tutti i piani perché è un'app che va automatico a tutti i piani mentre un'app specifica di una sottoscrizione specifica per esempio questo dell'app relativa al corso di project management è configurata con pubblicato sì però non applica a tutti i piani ma applica soltanto a un piano specifico perché un piano specifico perché io poi dopo aver creato l'app posso andare a creare i piani di piani di sottoscrizione quindi vado a creare io vado su piani dico nuovo piano titolo o titolo piano dico se è pubblicato se è visibile vabbè un test breve qua classe css perché è facile mettere anche quelle barre laterali che trovate di solito hot news popolare eccetera una url nel caso quando una persona acquista per un redirect una descrizione che poi mi compare sul piano e poi qua ci sono i piani di vendita allora io posso vendere la mia sottoscrizione forever quindi chi si chi si abbona si abbona per sempre fixed chi si abbona si abbona per un tempo che io stabilisco in questo caso è gestito in mesi anni mesi giorni qui ancora non una configurazione avanzata perché chiaramente lo faremo insieme all'interno del corso e c'è un prezzo 10 chiaramente 10 euro in questo caso per un giorno per esempio qual è l'applicazione collegata a questo piano cioè chi si abbona a questo piano fisso di un giorno per 10 euro che cosa deve fare cosa fa in questo caso io voglio che l'applicazione per questo piano sia per esempio nel mio caso il corso conflitti emozionali quindi tramite l'applicazione jungle va ad abilitare quel corso se qua ci avessi messo un'app relativa poi lo faremo ad un pezzo di codice di una pagina avrebbe visualizzato quella pagina oppure di documento avrebbe visualizzato avrebbe fatto scaricare un documento quali sono le application core cioè quelle che vanno di default sono admin payment questo va sempre paypal perché l'ho scelto io la vendita tramite paypal e la notifica prima della scadenza è un'email anche questa generata tramite applicazione che notifica prima della scadenza del prodotto adesso quindi avendo creato le app avendo creato i piani questo punto basta fare salva il piano va a finire all'interno di una pagina generale o della pagina sulla specifica che io voglio che si visualizzi vi stavo facendo vedere e prima di chiudere perché già si sono fatte le 19 gli altri gli altri gli altri aspetti io allora forever sempre fixed in cui vado a spiegare quanto dura l'abbonamento ricorrente in quanto vi vado a spiegare quante volte è ricorrente il mio il mio abbonamento questo è il caso in cui si attiva un pagamento ricorrente per su paypal quindi la persona che si iscrive su paypal ogni questo caso che è un giorno oppure se voglio tre mesi ogni tre mesi paypal automaticamente preleverà quel denaro noi abbiamo fatto una scelta poi di comunicare all'utente che prima del pagamento che ci sarà quel pagamento ricorrente che se vuole lo può annullare andando su paypal ad annullarlo qua posso andare a dire quante volte ricorre il pagamento questi altri sono interessanti perché sono ricorrenti più uno o due trial quindi io posso gestire una prova quindi posso dire che la prima prova la prova 1 è gratuita per un giorno passato quel giorno me lo devi pagare 10 euro per un mese per esempio per 10 ricorrenze 12 ricorrenze quindi in questo caso l'utente sarà avrà un utente di un giorno e poi costerà 10 euro ciao Piero qua qualcuno potrebbe dire sì però che succede se l'utente fa sempre una trial di un giorno molto semplice tra le varie app ne ho anche una che mi consente di limitare ad uno soltanto vediamo dov'è se l'ho scaricata forse non l'ho scaricata no mi sa che qui vi faccio vedere vedere anche quello che è il gestore delle app limit che si chiama limit subscription eccolo qua ecco vedete che non l'ho installata vi faccio install ovviamente io sono qua iscritto con con username e password lui mi ha installato un plugin perché di questo si tratta non ricordo se lui automaticamente lo 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 abilita oppure di andarlo a abilitare io a mano vediamo subito ok abilitato quindi se adesso vado su su pay plans abbiamo detto app mi creo una nuova applicazione questa volta dovrei trovarlo eccolo qua ok seleziona perfetto qua iscrivo limita accesso vedete già si prende perché già la prova l'avevo fatta arrivo a una iscrizione limita 1 lo status su attivo quindi limita una volta su attivo dice lo vuoi su tutto no vediamo se lo voglio in questo caso su corso per primo qualsiasi corso prezzi quindi in questo caso lui mi sta mettendo perché non lo voglio su tutti perché altrimenti su tutti sarebbe limitante su prezzi facile vediamo ok faccio salve e chiudi vado sul piano ok vedete qua tra i piani dedicate a questa applicazione ho questo ovviamente un'applicazione non è limitata soltanto ad un piano ma io posso utilizzare una stessa vado su questo altro abc reading planner posso dire che anche questo io voglio vendere ricorrente un trial e voglio dire limita a un'escrizione perché l'app è presente e quindi sarà funzionante questo per quanto riguarda il pay plans chiaramente vedremo il dettaglio il dettaglio lo vedremo nel durante 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 il corso adesso veramente sono state due ore molto molto intense e vi ricordo che i partecipanti hanno la possibilità di acquistare il questo questo qui con l'offerta di 89 oppure oppure il singolo con 39 euro quello dell'e-commerce si parte ok ce la farò ce la farò aspettate che faccio così che ormai il il mouse mi sta non ce la farò mai va bene nel frattempo se qualcuno mi vuol chiedere qualche cosa il frattempo che lui ci ferma che è impazzito powerpoint vuol chiedere qualche cosa o vuole anche vuole intervenire a voce sarò felice di aprirvi il il microfono anche perché sono onestamente stanchissimo c'è ancora qualcuno collegato? ci siete ancora? o mi avete abbandonato? a voce 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 Grazie a tutti.